L'affermazione in un settore specifico della specialità della regione, l'affermazione al termine di questo percorso che la collaborazione tra gli enti, in questo caso la regione, la provincia di Trieste e la prefettura di Trieste porta a dei risultati. Questo è un risultato importante, in un momento in cui qualcuno mette in dubbio il fatto che la nostra specialità resista di fronte agli attacchi esterni, il segnale più importante che arriva anche dallo Stato è il riconoscimento di targhe speciali, di targhe equivalenti alle targhe militari che segnano la totale autonomia sia per la protezione civile che per il corpo forestale. Mi pare che è un segnale importante. Assessore, come è interessata la forestale da questa novità? È interessata perché tutta la forestale verrà dotata da targhe speciali che ci permettono di dare maggiore riconoscibilità ai nostri agenti, ci permettono in questo momento di ribadire una volta di più la volontà della regione Fremenza Giulia, che ha un importante territorio montano, di mantenere il corpo forestale regionale. Ci permettono anche come amministrazione regionale, insieme alla protezione civile, di ottenere importanti economie di scala, perché fra prescrizioni amministrative e tasse di possesso, attraverso un percorso come questo risparmieremo circa 120 mila euro all'anno.